Grazie a tutti. Comunque è stato con noi sempre ogni anno e tiene molto a rappresentare ciò che la Polizia Postale svolge come lavoro accanto alle famiglie, accanto a voi giovani e in particolare oggi abbiamo anche due classi che sono collegate su un altro progetto a cui la Polizia Postale tiene molto che è Cuori Connessi. E anche in questo caso la nostra scuola è sempre stata ben contenta di aderire. Io passo subito la parola a lui e spero veramente che possiate, prestando attenzione, trarne beneficio da un incontro e da una disponibilità come quella del dottore Marcello Labella. Grazie per essere qui. Lui è il comandante della Polizia Postale. Grazie, buongiorno. Applauso alla Preside. Sempre molto attenta. Allora, l'ha detto la Preside, oggi è il giorno della sicurezza online, di Internet Safer Day, ma come ho avuto modo già di dire, non deve essere solo una giornata buttata lì, un anniversario. Deve essere un giorno di riflessione, un momento per renderci più consapevoli di quelli che sono i rischi, ne parliamo sempre, questo termine rischi, rischi è un po' ridondante anche alcune volte. Però vedete, la rete non è un mondo virtuale, cioè se voi doveste accostare un aggettivo a rete, sicuramente mettereste quello virtuale, giusto? Però virtuale a che cosa si oppone? Reale. Ecco, la rete è un mondo reale. Tutto ciò che voi fate online, già si vede sulle diapositive, già si vedono. Le vedete ragazzi? Ok, perfetto. La rete è un mondo... Non va però... Ci sono però due aspetti, e lo dico sempre all'inizio dei miei incontri. Gli incontri che, come ha detto la Preside, noi facciamo iniziando dalle scuole primarie. Voi già siete grandi, voi siete adolescenti, ma un bambino, una bambina di 7-8 anni, che già si affaccia al mondo della rete, ed è questo, il 70% inizia a quell'età, come percentuale degli internauti, è per noi un momento a cui prestare particolare attenzione, perché comprendete bene che 7-8 anni è un'età in cui non c'è assolutamente la percezione del rischio. E allora noi iniziamo a incontrare i bambini 7-8 anni. E diciamo su per giù anche le stesse cose, non è che sono molto diverse. Questo mondo però... digitale, ecco, chiamiamolo mondo digitale, che si oppone al mondo fisico, piuttosto che alla dicotomia virtuale reale. Questo mondo digitale, rispetto al mondo fisico, ha due aspetti che, da un certo punto di vista, rendono la rete bellissima, eccezionale, con potenzialità enormi nel campo dello studio, della ricerca, della socializzazione, di tutte le cose positive che potete immaginare. ma dall'altro canto, come vedremo, perché oggi siamo qui per il lato chiaramente più brutto, per il lato negativi della rete, non ne parleremo di delle positività, da un altro punto di vista è bellissimo e sono due aspetti fondamentali, tempo e spazio. Lo spazio, ve ne rendete conto già in questo momento, io sto parlando a, vado a occhio, non più di 70-80 persone presenti, forse anche 100, però ci sono in collegamento, quanti siamo? Avete visto? Se questo collegamento lo facessimo non solo nella rete intranet della scuola, ma lo lanciassimo su una piattaforma online visibile a tutti, potenzialmente mi potrebbero vedere miliardi di persone. Sapete quanti sono gli utenti della rete? Secondo voi quanti sono? La popolazione mondiale di quanti è fatta? Quanto? 8 miliardi. Bravo, 8 miliardi. Quanti sono gli utenti della rete? Da un calcolo che ha fatto qualche società un po' così, 7 mila? No, sono un po' di meno, oltre 5 miliardi. Però, come vedete, raggruppano già la maggior parte della popolazione mondiale. Ecco, potenzialmente, perché no, potrebbero sentirmi miliardi di persone. I confini non esistono. E lo vedete tutti i giorni voi con i vostri social. C'è qualcuno che non ha un profilo social? Per favore, alzi la mano. Per favore. Ah, gli ultracinquantenni ci siamo. Ok. Ok. Ah, perfetto. Quindi, vabbè. E vabbè, pazienza. Siamo ormai divasti in pochi. Questo non significa che non siano belli. Ah, ecco, attenzione. Quando voi utilizzate un social, il vostro profilo, magari, se decidete di renderlo pubblico, questo profilo, quando memorizzate qualcosa sul vostro profilo, innanzitutto, dove viene memorizzata quel dato? Foto, video, dove? Fisicamente, ah, dico. Non mi dite sui vostri telefoni perché... Dove? In quale stato del mondo? Dove? C'è uno che fa così, alza la mano e poi fa... Non è un'interrogazione, tranquilli. Per capire come funziona. Su internet, no. Faccio fin da non aver sentito. Fisicamente. C'è un computer, dei server, chiamiamolo, dei server che prendono mezza città, chiaramente. Potete sbagliare. Ah! Però, anche qui, l'ha detta, diciamo, in maniera generale, gli Stati Uniti. La maggior parte dei nostri dati, non tutti, non tutti, però la maggior parte dei social più conosciuti, meta, viene memorizzata su dei computer che stanno negli Stati Uniti. Maggior parte di questi, tra l'altro, in California. Ecco, allora, vedete, voi state mettendo un vostro dato dall'altra parte del mondo. Allora, il primo elemento che dovete sempre ricordare, perché se ricordate queste due cose, questo vi aiuterà tantissimo, importantissimo. Dei bambini nella scuola primaria, dopo dei nostri incontri, in particolare, in uno dei miei, mi hanno fatto dei bellissimi disegni. In uno di questi ha un bambino, ha raccolto, nove anni, dieci anni, ha raccolto alcune delle informazioni proprio sul mondo, l'ha disegnato così, scrivendoci, non esistono le nazioni, perché aveva ricordato quello che gli avevo spiegato, cercato di dispiegare. Ma c'è un altro aspetto importantissimo in questo, nel funzionamento della nostra rete, di questo mondo digitale, che non solo non ci sono le nazioni, non ci sono gli stati, non c'è nemmeno il tempo. Io ho messo, eh, non hai già queste cose qua, un bambino. Sapete cos'è il diritto all'oblio? Cos'è? tu fai sì, ora rispondi. Certo, ha visto la matita, ha visto Google, dice ora cancelliamo. Brava. Cioè, abbiamo diritto noi, e lo riconoscono, lo riconoscono la legge, già col GDPR, che è il regolamento sulla tutela dei dati. Passando anche per il meno conosciuto per voi, la legge sul cyberbullismo, viene riconosciuto il diritto di ciascuno di noi a che un dato che ci danneggi, che ci danneggia, pensate a una diffamazione, a un video che ci diffama, che ci oltraggia, col tempo sia dimenticato. funziona questa legge su internet? No. Diciamocelo. No. Non pensate che, vabbè, c'è questa cosa, ora vado alla polizia postale e me la leva. No. Cancellare, eliminare, sono dei verbi che dovete dimenticare su internet. Bravissima, l'avrei siete già ascoltato le mie, è preparatissimo ormai. Perché se voi pubblicate un video, un'immagine sul vostro profilo, partiamo sempre dai social, chiaramente sono quelli più utilizzati, ma quel dato poi viene condiviso dai vostri amici, dai vostri follower. La condivisione passa solo attraverso il vostro profilo? No. Perché poi c'è un elemento che può essere anche una migrazione. cioè dal social io lo faccio migrare su gruppi WhatsApp, che è un altro servizio, e viene visualizzato e conservato da tutti gli utenti di un determinato gruppo e poi diventa, ecco per usare ormai un termine virale, il virus. Si ferma, sì c'è un vaccino, poi dobbiamo mettere i vaccini, poi c'è la rincorsa. Qua è ancora più difficile bloccare la viralizzazione di un dato su internet diventa praticamente impossibile. Altrimenti se avessimo lo strumento per farlo già abbatteremmo uno dei fenomeni più gravi, tra i più gravi, che è la pedopornografia. eppure migliaia, migliaia di immagini di pornografia infantile ancora vengono veicolati online e non ci abbiamo gli strumenti adatti, non esistono gli strumenti per bloccarli. Ecco, pensate quindi il fatto che quando voi pubblicate qualcosa ne perdete assolutamente la disponibilità. È inutile e poi l'ho tolto già è diventato virale. Qualcosa ci offende? Ecco perché la velocità è importante. La velocità che voi conoscete bene, smanettate in una maniera, siete schillati in maniera pazzesca, cioè non so se vi fanno male mai i pollici, avete i tendiniti, ma siete veloci, pubblicate, levate, scrivete, condividete. la stessa velocità ci deve essere se succede qualcosa di negativo nel segnalarlo, nell'agire, perché prima si agisce e magari c'è più possibilità che il fenomeno non diventi virale. Era un po' come il lockdown, no? Chiudere subito per evitare la diffusione. E il suo internet su queste cose funziona un po' alla stessa maniera. E allora ricordate già questi due elementi. il tempo e lo spaccio sempre ricordate nelle cose positive e nelle cose nere. Sono positive alla grande. Cioè se pubblicano qualcosa voi avete vinto un premio, un evento bello, perfetto, deve rimanere per sempre o devono avere più persone possibili. Eh, ma c'è anche l'altro lato della medaglia di cui stiamo parlando. L'altro lato della medaglia ecco prende nomi di queste di queste di questi reati qua. Sono reati informatici? No. No. Non pensate di chiamare i reati che vengono commessi online reati informatici perché anche il termine informatici porta un disvalore minore. Vabbè, è un reato informatico. No, no. tecnicamente i reati informatici in stritto senso in senso stretto sono non più del 7-8% di tutti i reati che vengono commessi online. Un hacker di solito commette reati informatici, accesso abusivo, danneggiamento al sistema informatico, violazione delle password, ma sono una piccola parte perché il resto si può chiamare pedofilia, si può chiamare truffa, si può chiamare adescamento, si può chiamare estorsione, l'estorsione viene fatta online ormai e revenge porn vedremo la diffusione illecita, la maggior parte dei reati tradizionali di riciclaggio, la mafia oggi usa sempre più internet per riciclare i suoi soldi e allora la maggior parte dei reati tradizionali, delle condotte criminali ormai si sta spostando si è spostata su questo mondo digitale perché io vi dico questo perché vedete però online i crimini sono cresciuti a tre cifre percentuali quindi non a due cifre il 20 il 30 no no 150 200% negli ultimi anni per tanti motivi uno è certamente il fatto della facilità si impara online voi avete sentito parlare dell'isis no c'è nella cronaca nei gruppi terroristici il primo titolo della rivista digitale perché solo digitale loro voi sapete che loro avevano anche il califato del web cioè loro avevano una divisione militare che si occupava esclusivamente della propaganda e del reclutamento di terroristi online con i gruppi che venivano gestiti su piattaforme tipo telegram bene il primo numero della rivista dell'isis il primo portava il titolo grande make bomb in the kitchen cioè costruisci una bomba in cucina e ti spiegava passo passo come creare un ordigno da ingredienti della cucina questo per dirvi che online c'è una vera e propria propria didattica del crimine cioè vuoi costruire una bomba ti spieghiamo come fare vuoi hackerare un profilo ti spieghiamo come fare vuoi fare quest'altra condotta criminale ti spieghiamo su online in particolare anche sul dark web c'è di tutto su questo quindi questa diffusione dell'alliega l'illegalità ha portato anche a una crescita delle condotte criminose oggi abbiamo ragazzi minorenni che fanno truffe hanno a più non posso perché sperano di avere dei guadagni ulteriori rispetto alla paghetta che gli danno i genitori che cosa fanno eh diciamo vabbè ma alla fine io ho sentito ragazzi e poi rispondevo ma non è una cosa così grave non sarà una grave intanto a te ti becchiamo e allora questo ha portato a una crescita poi c'è quello che noi chiamiamo l'abbattimento del senso di colpa quello che ha detto questo ragazzo vabbè ma alla fine vabbè online cioè tu hai un senso minore di colpa nel fare delle condotte nel realizzare delle condotte criminose online perché c'è uno schermo no davanti quindi non è la stessa cosa mentre Totò una volta per vendere la fontana direi non l'avete visto questo film doveva andare a metterci la faccia e quindi doveva incontrare i turisti dice questa la fontana di Trevi è mia la volete comprare vi faccio un prezzo da fare però ci metteva la faccia e qua si fa online si crea un profilo una piattaforma e si fa finta di vendere bene i servizi con ricariche è chiaro che né bene né servizi arriveranno mai poi c'è un altro aspetto importante si pensa di essere anonimi quanti di voi online hanno pensato alzino la mano non l'alzerà nessuno chiaramente vabbè tanto lo faccio tanto chi mi becca sono anonimo mi connetto da un internet point qualcuno l'ha mai pensato dalle facce qualcuno forse non lo dirà mai chiaramente c'è un potenziale anonimato c'è molti pensano di fare delle azioni e di non essere scoperti perché magari si proxano quando navigano sapete cosi sono i proxi no proxarsi alzi la mano chi lo sa non è reato tranquilli e nascondersi dietro un altro IP sapete cos'è l'IP no non lo sapete uscite fuori non voglio più grazie l'IP l'IP diciamo la mettiamola così visto che non siete proprio il numero la targa virtuale che vi viene assegnata dal vostro access provider nel momento in cui navigate quindi avete un numero IP con cui siete identificabili in ogni attività che fate online quando andate su un sito quando vi accendete sui social c'è quel vostro numero che vi accompagna nella navigazione nascondersi significa proxarsi mettiamola così cioè prenderne un altro quindi restare anonimi è un'altra cosa che circola nelle testoline anche dei ragazzi alla fine resto anonimi faccio un profilo fake così non mi trovano e chiaramente quello che ho detto prima poi l'assenza degli spazi temporali che amplia con un click o con un touch meglio voi mettete online un falso profilo che fa finta di vendere delle cose la truffa e potenzialmente ne raggiungete tantissime persone non c'è bisogno manco di scomodarvi dalla sedia su cui state seduti ecco questi aspetti chiaramente hanno contribuito alla crescita enorme dei crimini online e poi quello che vi ho detto prima e qua ci dobbiamo preoccupare tutti qua vi dovete preoccupare anche voi se avete delle sorelle dei fratelli si nasce ormai in un'era digitale e quando tu nasci già i genitori la prima cosa che fanno in maniera sproveduta il cellulare il bambino dà fastidio perché me ne è dai gioca la prima occasione ti regalo il cellulare e dimenticano invece una cosa che ormai abbiamo capito c'è questo strumento è il mondo è il mondo reale cioè stai dando è come lasciare lo dico sempre un tuo figlio bambino sette anni otto anni in un quartiere malfamato di una grossa metropoli magari non gli succederà niente gli succede in quello meno malfamato però attraversa la strada e lo investono ecco c'è questa mancanza di percezione questo è il mondo quindi realizzate questo e per noi è un problema per noi per tutti dovrebbe esserlo ma partiamo un attimo con le cose decisive in questo confronto che oggi abbiamo iniziamo da una dei fenomeni che un po' ci preoccupa anche per la vostra età la pornografia minorile che cosa è la pornografia minorile? professore Salomonte dove è la professore Salomonte? no no dove sei andata? perché svegliamo questi ragazzi non possono interagire vero? dalle classi solo non ho scritto non scrivono niente tutti eh è perfetto no pornografia tu lo sai che cos'è la pornografia? ah sì però non hai parlato però però sì prego eduardo uscire prima dovrebbero essere per quanto riguarda la pedopornografia immagini pornografia e minorile ok sono video comunque immagini ritraenti minori che compiano atti sessuali veri o simulati in questo caso presuppongo sono arrivato recentemente bravo bravo ah la pornografia minorile perché al primo termine ci arriviamo un po' tutti dai pornografia ci arriviamo minorile ci arriviamo pure però c'è un aspetto che è importante sappiate che per la legge italiana la pornografia minorile non è solo era la slide ho fatto la battuta al vostro compagno non è solo la raffigurazione di atti sessuali che vede coinvolto un minore quindi un video un'immagine questa raffigurazione può essere anche simulata quindi non è detto che sia vera l'atto sessuale compiuto veramente ma possiamo fingere facciamo un video in cui fingiamo e quella è pornografia minorile e la legge italiana si spinge ancora più in là dice la legge è pornografia minorile anche la rappresentazione degli organi sessuali cioè un minore nudo minore tutti coloro che hanno meno di 18 anni quindi non sono solo i bambini quando io dicevo prima la battuta pornografia è infantile perché è chiaro che se stiamo parlando di bambini di 5-6 anni è infantile però questa legge copre tutti meno di 18 coloro che hanno meno di 18 anni la rappresentazione degli organi sessuali significa un minore nudo minore nudo o in cui vengono riprese le parti genitali è pornografia minorile ora io ritengo che questa definizione sia importante perché nelle condotte che vedremo dopo e che sono compiuto per la maggior parte da ragazzi come voi di pornografia minorile di condotte che riguarda ce ne è tanta purtroppo e non è vincoliamo l'idea che la pornografia minorile sia una cosa che riguardi esclusivamente i pedofili sapete chi sono i pedofili tutti coloro che hanno un'attrazione sessuale verso i minorenni poi le fasce di età sono varie però verso i minori no riguarda anche i minori tra di loro vedremo ora il perché quindi ricordate bene questa definizione così comprendete cos'è l'immagino il video che può essere definita per pornografia minorile e oggi oggi questo è un dato di oggi nostro e l'età è importante i fenomeni di pornografia minorile riguardano per la maggior parte quasi il 60% vittime tra i 10 e i 13 anni quindi una infradolescenza una piccola parte ma sempre più importante che sta crescendo coloro che hanno meno di 10 anni noi abbiamo avuto i casi a Catania di bambine adescate 7-8 anni e poi quello che riguarda in particolare voi c'è il 30% circa oltre il 30% una fascia 14-16 anni questi sono i numeri dell'adescamento online il grooming qualcuno di voi è mai stato contattato da un profilo falso? che cosa vi hanno chiesto nel profilo falso? quanti anni avevi? e poi dimmi dimmi non ti preoccupare dove vivi? giusto? questo è importante vieni per favore vieni no non ti preoccupare dai non ti intervistiamo poi lo dimentichiamo pegate nell'oblio è importante la vostra compagna ciao sono stata contattata da più persone di solito sempre c'è di origine araba da quello che penso dei profili di origine araba mi chiedevano quanti anni avessi in che classi in che sezione vado come mi chiamo se vivo con i miei genitori dove vivo e comunque che cosa faccio nel tempo libero e vedete già è un numero importante e come vedete hanno alzato la mano quasi tutte ragazze allora parlarne anche tra di voi è importante non sono qua momenti di semplice didattica questi sono i momenti importanti per la vita perché purtroppo noi abbiamo casi reali gravi di ragazzine ragazzi avete sentito quello che è successo purtroppo qualche giorno fa alla villa ma altre situazioni sono partite dall'adescamento online la vostra compagna dice ci possiamo incontrare quindi l'attenzione deve essere massima su queste cioè le vostre antenne devono essere furbe la vostra compagna magari è stata più brava ha capito ha bloccato arrivederci grazie e molti di voi lo saranno ma ne basta già una su tante anche solo una per noi è una sconfitta nemmeno una deve essere il dato non dobbiamo mirare solo ma la maggior parte non ci cadono la maggior parte non ci cadono ma qualcuna ci cade è una sconfitta ecco perché ripeto anche tra di voi è importante non basta l'incontro con la polsiotto tra di voi è importante allora questo dato dell'adescamento hanno alzato la mano la maggior parte delle ragazze ma abbiamo anche un dato statistico che anche i ragazzi vengono adescati è un dato minoritario ma esiste ma esiste e oggi la vostra fascia di età al di là di quello che noi abbiamo avuto dei casi proprio sulle scuole questa fascia di età vostra di ragazze che sono state adescate sapete come con la promessa di fare le modelle fotomodelle modelle di fare un saggio di iniziare a mandare delle foto io sono un importante fotografo di alcune delle delle più note marche gli dai il link sulla piattaforma le ragazze cliccano il link che vanno a vedere su questa piattaforma in effetti c'è questo sito c'è il suo nome c'è una faccia di un tizio e ci sono delle sfilate ci sono anche dei racconti tutto falso tutto falso se avesse fatto un po' di di attività online di matching online avreste visto magari che quella foto era stata rubata da un altro profilo imparatele a fare queste cose per capire se qualcosa è falsa ci sono anche le possibilità google ne da uno con google foto di capire se ci sono dei match importanti sulle informazioni e l'andate a trovare bastano due tre cose quindi non dovete essere particolarmente capaci però vi dà la possibilità di capire se una cosa è falsa e quello aveva messo sul sito falso dove prometteva poi chiaramente si entra un po' più nell'intimità e allora dice sì però io per avere un risconto cioè per per spendere del tempo e anche del denaro per te devo capire un attimo come sei fatta mandami del materiale in pose intime quindi da nuda in posizioni più provocatorie e quando quella ragazza ci cade perché è sempre abbagliata da questa promessa che c'è e poi parte che cosa? il ricatto poi c'è il ricatto io ora queste foto se tu non io queste foto le divulgo il ricatto il panico l'ansia e si entra in un girone dantesco e allora poi certo poi ci siamo noi poi lo denunciamo poi lo troviamo però il fatto il danno già è fatto noi dobbiamo prevenirlo il danno cioè dobbiamo evitare che la ragazza cada a un miraggio che non esiste sull'adescamento online chiaramente i numeri purtroppo sono ancora importanti e riguarda poco voi ma riguarda in genere quel 9% ci preoccupa cioè dei bambini con meno di 10 anni proprio lo raccontavo poco anzi noi abbiamo avuto una bambina di 7 anni di andare a vedere qualsiasi cosa la mamma e il papà ci sono i bambini di 10 anni perché i genitori possono una cosiddetta e che cosa non è ma che non è qualche anno fa l'anno prima della pandemia i genitori le mamme facevano un gioco online sui social su non ricordo il nome ma era una sorta di catena di Sant'Antonio sostanzialmente in cui a chi pubblicava le foto più belle dei loro figli appena nati dei bambini pochi anni pochi mesi alcune volte allora le mettevano in tutte nel bagnetto mentre giocavano mentre gli cambiava il pannone di tutto e di più una giornalista mi chiese di dare una battuta su questo fenomeno un fenomeno che io chiaramente ho denunciato come inappropriato cioè non è un reato non lo è anche se in Italia già si sta discutendo e riguarda questa cosa anche voi cioè in Francia già è passata una legge cioè i genitori non possono pubblicare le foto dei propri figli perché i propri figli non hanno la possibilità di dargli il consenso voi siete d'accordo se i vostri genitori pubblicano le foto vostre e le vostre cose senza passare da voi io non l'ho mai fatto se non qua i miei figli mai una volta avevo messo su whatsapp la foto di un evento tutte e tre levala subito levala è giusto è giusto avete dato il consenso o no siccome non si può dare allora tu non le pubblichi bene le mamme dopo questa intervista sui social un po' mi hanno aggredito esagerato sembra poliziotto sembra male pensa sì a queste stesse mamme io però risposto che se andassero sul dark web sapete cos'è il dark web eh se qua sono preparati sono tutti bravi sul dark web avrebbero trovato una serie di immagini tantissime rubate di bambini bambine infanti su normali momenti di vita quotidiana però pubblicate sulle piattaforme di pedofili di pedofornografia e allora ecco ci sono tanti aspetti da sottolineare l'importanza anche questa non è un reato però pensiamoci limitiamoci su questa cosa e le mamme evidentemente non riuscivano a stare l'estorsione ve l'ho detto prima si chiama sextortion le vittime la maggior parte delle volte sono adulti gli adulti la maggiore lasciamo di stare fatti loro poi sono attività di cui poi chiaramente ne piangono le conseguenze però abbiamo tantissimi casi di minori che vengono anche qui adescati l'esempio l'ho fatto prima sui social network falsi profili qua non è lo scopo per alcune volte tanto sessuale cioè io ti adesco perché voglio avere un rapporto sessuale anche online con te no qua sono i soldi cioè io ho delle foto intime tue perché è in questo caso la cosa riguarda i maschietti l'altro pomeriggio qualche giorno prima mercoledì martedì momento di chiusura del nostro ufficio al pubblico c'era un ragazzo sulla vostra età 14-15 anni che era un po' così stava parlando con il mio agente sotto di Piantone lo vedo un attimino preoccupato si girava no ma quando aprite quando posso fra un po' puoi ritornare ma una cosa importante lo fermo capito che cosa è successo questo ragazzo aveva conosciuto online un profilo più che conosciuto era stata adescare da un profilo di una ragazza molto avvenente avevano iniziato a chattare i feromoni di questo ragazzo sapete sono i feromoni sono scattiati le stelle non ce l'ha fatta più e chiaramente hanno fatto online degli atti intimi o meglio li ha fatti lui perché dall'altra parte sicuramente c'era qualche criminale maschio lui non se ne è accorto e da quel video da quei frame video è partito il rigatto pagami subito ma io non ce li ho fammi una ricaria pagava 300 euro sostanzialmente mi ha fatto una ricaria 300 euro poi dopodiché ha continuato chiaramente il rigatto dice vabbè ora fammi altri 100 euro perché non si esce fuori dall'estorsione non si esce non ti abbandona ecco di questi casi che riguardano minori ne abbiamo tanti e qui la fascia di genere si sposta sul maschile molti delle persone adescate sulle sextortion sono uomini sono maschi fermo restando il fatto che voi non sapete quel video che hanno rubato dove va a finire e proprio sulla diffusione della delle immagini sessualmente esplicite un attimino dobbiamo pensare al sexting cos'è il sexting chi lo sa di voi sempre tu lo sai no non lo sa stavolta non lo sa è la crasi dei due termini sex e texting lo scambio di messaggi dal contenuto erotico sessuale cioè non sono messaggi è chiaro e lo scambio di immagini video tra due ragazzi video immagini sessuali quindi pornografia minorile con la pandemia e quindi con lockdown che tutti abbiamo vissuto c'è stata un'esplosione in genere dei reati commessi online ma nell'ambito di questa grossa esplosione una grossa parte ha riguardato proprio il fenomeno del sexting nello scambio però se lo fanno dei minori è già reato perché è reato per quello che vi ho detto prima l'immagine il video è pornografia minorile quindi è reato se lo fanno gli adulti di per sé non è un reato però attenzione è uno degli degli atti che riguardano un successivo una successiva condotta di atti persecutori cioè nel momento in cui poi magari finisce una relazione quei video quelle immagini vengono usate come una clava per minacciare denigrare insultare la parte tanto che c'è un un reato il revenge porn sapete quando è stato introdotto questo reato Tiziana Cantone l'ha mai sentita qualcuno nominare nessuno Tiziana Cantone è una ragazza che si è tolta la vita perché delle immagini intime che lei aveva realizzato col proprio fidanzato col proprio ragazzo dopo la fine del loro rapporto erano finite online erano state girate condivise nei gruppi diffamata oltraggiata un po' di tutto denunce querele non si bloccava la diffusione di queste immagini poi questa ragazza arrivato si è tolta la vita è un po' il caso che ripercorre in maniera un po' diversa quello che ha riguardato Carolina Picchio l'avete mai sentita nominare sì chi ha detto sì un sì l'ho sentito uno chi è brava da Carolina Picchio dovreste saperlo ha preso origine poi la legge sul cyberbullismo l'insegnante di Carolina Picchio la sena e poi è diventata senatrice ed è stata una delle prime firmataglie di quella che ha portato la legge sul cyberbullismo la settantuna il duemiladiciassette ma lasciando stare le leggi numeri eccetera questa ragazzina aveva tredici anni mi pare di ricordare a tredici anni va a una festa come ci andate tutti mi auguro andate alle feste no? bevete alle feste? non bevete? come? acqua? coca cola? no? cioè questo vostro compagno è impassibile non si capisce è come se non fa niente cioè riesce riesce a nascondere perfettamente qualsiasi emozione comunque questa bambina beve un po' gli fanno bere degli alcolici e quindi chiaramente quando tu bevi alcolici e non sei soprattutto abituato a berli vai chiaramente in tilt gli fanno un video un video riprendendo le parti intime questo video finisce la festa le va a casa il giorno dopo si alza e inizia a ricevere messaggi di cui non capisce subito il tenore ma che è successo ma che è fatto ma perché e poi vede che sta circolando sui gruppi su online questo video la faccio breve non so chiaramente tutti i dettagli ma per arrivare al fatto diciamo tragico questa bambina si toglie la vita si butta giù dal balcone del suo appartamento il padre poi gli insegnanti chiaramente si fanno un percorso vanno nelle scuole spiegano questa cosa ora nonostante ciò nonostante tutte le cose di cronaca nonostante questo io vi confermo che a oggi a oggi in tutti gli istituti della nostra provincia fatti più o meno simili fatti che riguardano denunce di video intimi che riguardano i ragazzi continuiamo a riceverli cioè lo sforzo di tutti deve essere questo cioè lo sforzo deve essere quello di convincersi della gravità di queste situazioni se voi avete un fidanzatino una fidanzatina non cedete mai alla richiesta di questo fidanzato di fidanzatina di ricevere scambiarsi un'immagine un'effusione perché quell'immagine rimane rimane magari per sempre viene veicolata e domani può essere utilizzata come strumento per massacrarvi perché il verbo massacrare non è improprio online quando si parla di atti persecutori ad esempio guardate faccio vedere una cosa no non c'è non l'ho messo non l'ho messo va bene c'è un reato che si chiama atti persecutori stalking lo stalking che cos'è alla fine e portarci a vivere con ansia con preoccupazione la nostra quotidianità a modificare il nostro stile di vita perché abbiamo una preoccupazione abbiamo qualcuno che continuamente ci minaccia invia foto inappropriate ad altri prende la nostra identità ci segue ci fa sempre delle domande ci perseguità questo è ed è un fenomeno ahimè molto frequente tra l'altro è uno dei reati spia insieme a questo a questo dei revenge porn è uno dei reati spia cioè quei reati che già per noi sono da codice rosso e sono da codice rosso e sono i reati in cui c'è un campanellino d'allarme attenzione blocchiamo subito perché si può finire poi a che cosa all'omicidio quello che mass media chiamano il femminicidio si arriva poi perché è una scala che cresce e si arriva proprio dalle piccole cose dalle piccole molestie dalle piccole piccole dalle minacce più o meno gravi ecco sono uno dei reati importanti in questo senso ecco perché io li sottolineo li rimarco e ci torno sempre e credetemi le testimonianze su questi fatti accaduti a ragazzi come voi qui quindi mi 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 fermo nel nostro territorio sono tante quindi non sono cose che stanno dall'altra parte del mondo o in un'altra città italiana online questi li conoscete un po' tutti no? questi nomi li conoscete tutti? queste queste sfide? qual è che non conoscete? ve la dico io la professoressa dice nessuno sfidarsi online non posso credere che non le conosciate è impossibile è impossibile se ne parla tanto però se non le conosco voi allora faccio un'altra domanda vado a ritroso avete mai assistito o peggio partecipato a qualche sfida online si dice quella di latino di greco no quelle sono belle lasciamole mai mai sotto tortura mai manca a lui glielo farei dire quella è una pietra le sfide le challenge ne avete sentito parlare no? ecco fino a che c'è una sfida positiva e le sappiamo quale sono le sfide ripresa fatto la battuta no? anche sportiva va bene quando però ci sono delle sfide in cui si cerca di fare una ripresa e soprattutto di ergersi come colui che ce l'ha fatta fino ad arrivare al momento ultimo che mettono in pericolo la nostra vita e allora siamo davanti a un problema e il problema è dato da colui che fa la sfida cioè che è l'attore io faccio questa sfida ora un po' ve le dico queste questi nomi ma già ci arrivate da soli che mette in pericolo la sua vita ma anche da un altro problema che si chiama emulazione questo lo sappiamo tutti che cos'è l'emulazione tu lo sai anche ma io l'ho capito lui sa tutto è uno di quelli là è un mucciato l'emulazione cioè prendere guardare altri e spingere e portare a fare quello che fanno loro e questo è un problema poi si chiama emulazione noi l'altra parte lo chiamiamo l'istigazione abbiamo denunciato tempo fa una signora mamma e nonna mamma e nonna che online faceva delle sfide di questo genere che mette le pubblicava su tiktok qualcuno ha tiktok che online faceva sfide di questo genere in particolare una la ricordo bene cioè cingersi il volto con la pellicola trasparente e consumarla tutta quanto ora non ricordo i dettagli però il pericolo qual era bravo soffocavi non respiravi se qualcuno privo di questa razionalità che invece vedo in voi onestamente lo facesse eh quello non respira poi lo vattela a levare non è che è tanto facile toglierla blackout game cioè arrivare al punto dello svenimento dello di non respirare di soffocamento però al punto prima di morire perché poi la ripresa è bella ci provi euforia blackout game cioè tu svieni stai per soffocare ci sono tante tecniche di soffocamento arrivi lì poi smetti e ti riprendi al limite prego sì sì no però c'è un problema c'è un affatto della blue whale se ne parlò tantissimo ne avete sentito parlare se ne parlò tantissimo la sfida vari step uno più pericoloso dell'altro però ti posso dire che noi in Italia ne abbiamo parlato tantissimo ma casi concreti immediati realizzati non ne abbiamo riscontrato fortunatamente ma è stato un bene che se ne sia parlato ma di questa invece purtroppo e sono disseminati social sì è vero poi quando li segnaliamo quando li troviamo li chiudono però credetemi spesse volte la risposta dei social anche alle nostre richieste della polizia non è così immediata cioè chiediamo ta e tolgo devono valutare devono vedere le polisi tik tok poi sapete di chi è tik tok no e cinese con tutto il rispetto per i cinesi ma loro stanno là le polisi sono un po' più diverse ma gli statunitensi non è che brillano in questo le polisi di meta su facebook facebook non è per voi di instagram sono tutte particolari il bere in maniera veloce e immediata il beach drinking o cospagersi fino ad arrivare ad avere delle vere e proprie ustioni bruciature di deodoranti un mix sempre più forte ovviamente tutte queste riprese con video non con le foto o il bere sale tantissimo voi fate delle facce però sono quelle questa guardi sulla sfida del fuoco è veramente da pazzesco cioè cospagersi il corpo di parti infiammabili mettersi vicino a una doccia comunque a dell'acqua poi accendere e buttarsi subito gente che si ustionata è chiaro e poi questo se ne è parlato perché credo che sia deceduto qualche giorno fa un ragazzo ora non so in quale parte ma su online basta digitare il rooftop lo trovate è morto proprio un ragazzo cioè andare nell'estremità dei palazzi arrampicarsi sulle antenne per farsi dei selfie in maniera sempre più pericolosa e più alta sul tettino ed è morto di recente proprio un ragazzo che voleva fare questo tipo questo ne avrete sentito parlare di questa cosa di fotografarsi farsi video in questa e sono chiaramente tutte delle sfide estreme pericolose che portano poi dall'altra parte che cosa il rischio appunto di emulazione chi le fa e chiama gli altri a farli risponde del reato di stigazione quindi su questo c'è anche un aspetto penale quindi voi non avete partecipato a nessuna delle challenge meno male sono più rassicurato così concludiamo con due tre avete mai visti i blog proana pro mia a favore a favore dell'anoressia a favore della bulimia ci sono molti blog dei diari tenuti nei social ce ne sono anche parecchi di profili che fanno queste cose tenuti da ragazze particolare di sesso femminile che raccontano la loro esperienza la enfatizzano la portano come questione positiva il loro regime alimentare però è un problema serio perché voi sapete bene che l'anoressia la bulimia sono delle situazioni drammatiche questo rendicontare questo avere e poi creano anche dei gruppi fra di loro dal blog dalla pagina dal profilo si creano dei gruppi che portano altri a provare ed entrare in una spirale da cui poi difficilmente in momenti chiaramente di fragilità fragilità emotiva ognuno di noi ce le ha più o meno ci sono quelle più marcate che poi seguono questi inviti e si cade poi in questo questo dramma dell'anoressia o dall'altra parte della bulimia qua noi abbiamo delle armi anche un po' spuntate nel senso che molte volte questi blog sono tenuti su piattaforme estere all'estero non riconoscono nella maggior parte dei paesi alcun tipo di condotta illecita nello sponsorizzare queste condotte quindi per noi incontrare oscurare cercare di non far diventare virali questi messaggi è veramente un problema quindi ne troverete purtroppo tantissimi anche nei social che spesso non aderiscono all'arte non hanno una particolare attenzione anche verso questi fenomeni ultime due informazioni così se c'è spazio per qualche domanda che sicuramente ci sarà vero presi già se sono preparate hanno studiato siccome dobbiamo interrogare un dirigente di polizia la le notizie false qualcuno di voi ne ha mai date notizie false chi ha detto sì ho sentito un sì da questa parte ah c'è uno che ha detto sì però ha indicato il compagno quindi diciamo è un delatore vabbè dice lui sì c'è in Italia guardate tempo fa abbiamo denunciato un tizio che faceva telefonate telefonava proprio ai centralini di pubblici servizi preannunciando dei disastri o comunque degli incidenti cosa che non c'erano chiaramente beh questa condotta come vedete è è un reato cioè diffondere pubblicare dare delle notizie non vere che riguardo che possono mettere in pericolo da una parte l'ordine alla sicurezza pubblica preannunciando anche dei disastri o comunque rischio per l'incolumità è un reato non è un gioco al di là dello scopo per cui tu lo fai cioè non interessa il codice penale non interessa come in alcuni altri articoli ci fosse lo scopo tu lo fai per questo scopo no non c'è un aspetto soggettivo del reato un dolo specifico c'è un dolo generale se tu lo fai metti in pericolo comunque l'ordine la sicurezza pubblica con queste telefonate crea un disservizio fai un reato quindi vedete anche pubblicare noi abbiamo avuto minori che si sono divertiti sui social anche a pubblicare anche a fare dei montaggi ormai poi con l'intelligenza artificiale abbiamo dei grossi problemi con i deep fake sapete cosa sono i deep fake ragazzi che generazione siete voi siete già vecchietti perché qua i deep fake sono le immagini video montati ad arte dall'intelligenza artificiale tale da apparire veri Taylor Swift non l'avete sentito la storia ah sì allora lo sapete cioè sono state pubblicate sono state divulgate delle immagini intime non era lei però appariva come lei quindi anche con l'intelligenza artificiale noi abbiamo grossi problemi su questo aspetto qua sulla creazione di immagini video tali da apparire e qualcuno della vostra età si è divertito in passato anche a pubblicare situazioni in cui c'è stato un terremoto a Catania forse perché sperava che chiudessero le scuole perché poi c'è tutta sta cosa sugli aspetti meteorologici domani ci sarà un disastro ambientale l'alluvione quindi dovete chiudere le scuole subito fanno le copie in colla da vari siti un po' di questo genere qua non è un gioco non è un gioco perché spesse volte può creare effettivamente un effetto a catena che realizza un disordine pubblico e in questo disordine pubblico voi avete fatto una condotta illecita quindi non scherzo ma chi utilizza piuttosto un po' l'intelligenza artificiale qualcuno di voi per i compiti vabbè ovvio quale programma utilizzate non so un po' sostituzione chi c'ha chat GPT tu hai detto cos'è adesso c'è sfuggito cos'è ce l'hai no guardate che anche al di là di chat GPT anche in un certo senso googlare in qualche maniera è un po' un utilizzo di un'intelligenza artificiale perché i motori di ricerca funzionano in questa maniera c'è gli algoritmi che sono stati testati sono finalizzati comunque a darvi un riscontro sempre più vicino a quello che voi chiedete certo non siamo nell'ambito ancora di una ricerca semantica ma ci stiamo arrivando ormai ci siamo arrivati parlo per noi la polizia noi in particolare come polizia postale utilizziamo molto l'intelligenza artificiale noi abbiamo degli strumenti di surfing di navigazione online per la ricerca dei dati che ci servono magari di qualche condotta illecita di chi va a fare qualcosa che sono dei sistemi alla fine automatici cioè noi non abbiamo il poliziotto che va lì a digitare su google non è proprio così quindi abbiamo degli strumenti forti che ci aiutano in questo che vanno a rintracciare anche nelle chat nelle sessioni dei social determinati profili determinati contenuti senza chiamarente avvalerci della ricerca dello strumento ricerca del social quindi dall'esterno strumenti chiaramente sono anche molto costosi sono proprietari ma sono quelli quindi per noi l'intelligenza artificiale è un bene è un po' meno bene quando magari la utilizzano dei ragazzi o per fare delle situazioni false in maniera importante o che hai iniziato a fare i compiti i compiti li dovete fare voi anche perché se gli fa sembrare l'intelligenza artificiale arrivate un momento che voi non li saprete proprio fare sarete asini totale ma prendere l'identità di un'altra persona è reato certo c'è scritto là dietro c'è anche l'articolo qua quando se le leggono le cose le sanno bene sì sì ma è solamente prendere l'identità o anche prendere un falso stato noi ci siamo messi nell'ambito delle nostre indagioni abbiamo trovato anche quelli che si fingono sono sposati si fingono single sulle chat sulle cose di incontri per acchiappare qualche altra coetanea fingendosi che sono single guardate che anche quello è reato cioè perché poi la finalità qual è avere un vantaggio io prendo l'identità lo stato la qualità di un'altra persona o di un che non sia io comunque anche inventata per trovarne un vantaggio io vantaggio non è solo quello economico o per fare il danno all'altro prendo l'identità di una persona facendo finta che si prostituisca online per fargli un danno a questa persona crea un profilo falso a nome di questa persona per fargli un danno la vostra preside ancora non c'era in questa scuola ma io sono stato in questa scuola diversi anni fa l'aula un po' più piena anche di orce anche tutti mi posso occupare non ricordo c'erano un sacco di ragazzi anche messi qua termino l'incontro con i ragazzi anche quello piaceva sto per andare fuori e non lo posso dimenticare era questo periodo era febbraio perché era febbraio perché c'era la festa di carnevale quindi il periodo era questo sto per il corrido mi fermano due ragazzi un po' come voi due è lo stesso muti non avevo mai alzato la mano ragazzi anonimi mi fermano fuori e volevo fare una cosa ho detto che c'è dite volevo chiedere un'informazione cioè se io io devo fare una festa a giorni e in questa festa vorrei invitare una ragazza e questa ragazza è di un'altra classe io ancora lo sentivo non riuscivo a capire che cavolo voleva da me della festa dell'altra festa da rincontro ragazzi non riuscivo a capire all'inizio questo ragazzo mi disse no io devo fare questa festa devo andare alla ragazza di un'altra classe però io credo che a questa ragazza gli piaccia il mio compagno di classe e peggio per te è un'altra e allora io per invitarla tipo io facevo la festa e però la invitavo col profilo di questo ragazzo già mi ero confuso ma io lo creavo apposta così lei veniva ci incontravamo là e poi no no basta gli ho detto guarda non tu non hai capito niente tutto quello che ho detto dopo certo questa è la cosa che non sapevo se ridere cioè tu non hai capito ho parlato voleva il mio assenso cioè e poi continuava insisteva dice sì ma io lo faccio solamente poi lo tolgo poi glielo dico pure però intanto la faccio no non lo puoi fare vai con la tua faccia la inviti ti dice di no pazienza la vita così è dicevano gli antichi no no non è cambiato infatti i problemi sono sempre simili ora vi ho raccontato questo che chiaramente non è una cosa particolarmente grave ma mi dà un indirizzo su quello che effettivamente può accadere come qualcosa che anche per me è un gioco anche momentaneo poi può trasformarsi in una situazione grave noi non abbiamo il pieno controllo se non abbiamo una consapevolezza capiamo poi se capisce lo fai peggio per te allora la punizione poi ti sta bene penale civile quello che vuole che ci sono anche prevenzioni civili che sono anche importanti però viene dopo ora li facciamo intervenire anche perché poi abbiamo visto il problema della relazione a livello pecuniario per loro interessa poco perché poi pagano i genitori giusto? e allora ragazzi adesso però utilizziamo quest'ultimo frammento di tempo che abbiamo per fare noi delle domande al dottore Dabella sicuramente voi avete riflettuto avete ascoltato qualcuno di voi si è ritrovato nelle situazioni che ha rappresentato anche se avete fatto in modo da non partecipare in maniera attiva qualche mano soltanto abbiamo visto alzato ma io sono convinta che invece ne avreste potuto realizzare molte di più perché tanti di voi si sono ritrovati in queste situazioni in queste sfide o in queste o in questi adescamenti perché io ricordo che quando avevo i bambini piccoli e oggi i miei figli hanno 35 e 32 anni già cominciavano allora questi problemi quindi e io già vedevo che se c'era un telefonino in giro c'era sicuramente qualcuno che provava ad entrare in contatto con questi adolescenti quindi che a voi non sia capitato io non ci credo per cui sarebbe invece bene importante capire cosa si può fare visto che accade perché alcuni di noi ci chiudiamo soprattutto quelli che sono più timidi quelli che sono meno o quelli che sono meno corteggiati o meno corteggiate si imbarazzano anche a raccontarlo alle amiche perché poi subentra l'altro problema quello di essere presi in giro e allora invece trovare una strategia per contrastare questi rischi e la strategia la si trova soltanto insieme perché il dottore Labelle è stato chiarissimo efficace nella comunicazione di rappresentare quello che accade ma adesso voi dovete rappresentare quello che vi è accaduto in modo da poter insieme trovare un modo per rafforzarci chi vuole intervenire per primo o per prima vieni eccoci qua io una domanda su whatsapp da qualche anno hanno introdotto la criptografia end to end che è una forma di protezione dei messaggi delle chiamate di tutto ciò che gira su whatsapp ma è realmente così perché sappiamo che i nostri messaggi quando mandiamo anche un piccolo messaggio fa il giro del mondo in un anno secondo cosa succede cioè cosa c'è in realtà dietro questa criptografia end to end cos'è realmente la criptografia end to end punto a punto tutto quello che transita quando voi scrivete un messaggio è criptografato quindi tu scrivi a un tuo contatto mandi un messaggio quel messaggio non viene letto se ci fosse un'intercettazione in corso è sicura allora io ho una battuta per tutto quello che riguarda online tutto è sicuro niente è sicuro ci sono tre leggi che non le ho scritte io ma uno dei maggiori appunto esperti di criptografia di sicurezza informatica che diceva mai dire mai tutti i problemi non possono essere risolti solamente con i software e quindi anche con la criptografia quindi sono delle leggi importanti dobbiamo tenere presenti se tu mandi un messaggio a un tizio quel messaggio rimane sul tuo cellulare è stato criptografato durante il transito ma rimane poi in chiaro sul tuo cellulare chiunque abbia accesso al tuo cellulare anche da remoto potrebbe leggere e quindi questo è già il primo problema chi controlla i controllori c'è chi controlla la meta voi sapete che fine fanno i vostri dati nonostante c'è un grosso dibattito in atto anche sullo Stato anche negli Stati Uniti sulla tutela dei nostri dati perché qua non si parla di privacy il concetto di privacy è forviante secondo me perché il diritto è la privatezza qua il diritto è diverso è più ampio il diritto alla tutela dei propri dati quindi di qualsiasi informazione sia essa personale sia sensibile un'immagine nostra è un dato personale chi lo protegge quando voi fate anche ecco la criptografia chi di voi fa il backup delle chat e tutti ma io lo so che siete tutti bene quel backup delle chat dove viene conservato sul vostro telefono no viene conservato sui server allora ecco la risposta penso che sia implicita non posso chiaramente pubblicamente indicare quelle che sono le falle di sicurezza ma credetemi ecco diciamo mai dire mai il modo migliore per mantenere un segreto sapete questo l'ha detto anche un altro esperto di criptografia scuse quando c'è un segreto è tale quando lo sanno solo due persone e una di queste è morta ecco quando un segreto è al 100% segreto lo sanno solo due persone e una di queste è morta prego stessa scusse dico siamo così disinvolti rispetto a questo aspetto della rete mentre siete avvinghiati alla vostra idea di privacy rispetto alle persone che vi sono più vicine io farei loro un'altra domanda perché i più grandi sono di primo liceo qui quindi 16 anni quanti dei vostri genitori conoscono la password del vostro telefono e quanto siete tranquilli ammesso che succeda che i vostri genitori prendano il telefono e lo guardino io lo chiedo perché io sono antica e mio figlio ha avuto il suo primo telefono adesso a 12 anni e pensava fosse un sì pensava fosse un gioco ma noi abbiamo sottoscritto un contratto che mi sono cercato in rete e lo leggevo e mi rendevo conto che veniamo no è stato a me però il contratto educativo con lui quindi l'orario sì sì ma quello è un altro discorso è proprio un cioè lo abbiamo fatto un po' per gioco però per mettere in gioco delle cose che dovrebbero essere ovvie sarà perseguibile grazie rispondo io per loro io sono certo che quasi nessuno dei genitori conosca la password ho detto una banalità alzi la mano chi dei vostri genitori conosce la vostra password ed ha libero accesso al vostro telefono siete circa il 40% già è una buona una buona percentuale questo mi fa ecco questo è importante io qua loro non ci sono i genitori se ci fossero i genitori fare un discorso un po' diverso lo facevo anche ne parlavo oggi con la preside che condivideva io ritengo che molte responsabilità abbiamo noi come genitori noi ci metto pure io noi io purtroppo sono sempre uno di quelli che non conosco la password di mio figlio non l'ho mai conosciuta ed è fatto un errore forse ormai a 17 anni è difficile chiedergliela l'età diciamo cambia però ecco sua madre è stata sempre molto attenta su questo ha sempre cercato di sbirciare di guardare c'è un aspetto però più determinante che più che loro 12 anni già è un'età giusta ma qua lo dicevo prima stiamo parlando di 7-8 anni 7-8 anni tu non è chiedevi la password secondo me o non glielo dai proprio il telefono o comunque fai una navigazione vincolata con te cioè lo istruisci lo guidi per alcuni anni perché l'età è troppo prematura però il fatto che già qua metà circa la metà abbiano i genitori abbiano accesso questo è un diciamo va un encomio anche ai genitori e a loro perché chiaramente non hanno nulla da scontro ho anche delle delle riserve sul fatto che i genitori abbiano la password ma non significa che abbiano piena cognizione di ciò che fanno i ragazzi primo perché molte volte non è detto che siano schillati come loro eh sì capaci scusate sfugge questa siano capaci siano istruiti abbiano delle le stesse abilità eh che hanno i ragazzi primo problema e quindi non sono in grado magari di dare un secondo perché sono anche convinto che se un ragazzo è abbastanza mettiamolo così utilizza la sua intelligenza a modo di furbizia può nascondere può evitare può sì vabbè c'è la password però quelle cose non le trovo cioè le mie chat segrete non le trovo sapete cosa sono le chat segrete chi ha Telegram pochi 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 vabbè è più segreto interscambiabili qualcuno di qualcuno di voi ha condivide la password con suo amico compagna si guarda si baciano uno due allora e su questo su questo vi deludo su questo vi devo deludere è è un errore te lo dico subito perché uno la vostra la password è un po' come la chiave di casa vostra perché accede a vostri dati ora mentre ha un senso dare la password dai genitori è il senso quale è giuridico il senso i genitori sono legalmente responsabili delle vostre azioni hanno un dovere non una possibilità hanno il dovere l'obbligo di tutelare i propri figli minori come li tutelano se non sanno quello che fanno quindi hanno l'obbligo e nell'on quest'obbligo c'è la necessità che abbiano la password per capire che state facendo e quindi è diverso i genitori devono avere la password discorso diverso è quello che ha sollevato il vostro insegnante ho la password col mio amico con la mia amica io direi di no un consiglio non è nulla non c'è nulla di particolarmente grave o pericoloso ma il consiglio è quello di stare attenti soprattutto quando questa password viene condivisa nell'ambito di una relazione sentimentale perché nella relazione sentimentale e lo sappiamo le persone iniziano finiscono e quando poi finisce e c'è l'altro e parlo di case successi chiaramente l'altro magari non ti fa cedere più al profilo social ti cambia le foto ti danneggia in qualche modo ti diffama utilizzando quelle chiavi di accesso che tu gli hai dato oppure anche due amici due amiche si litigano e poi il cambiare attenzione seguitemi su questa cosa se voi avete di accesso del vostro amico o della vostra amica e cancellate cambiate un'informazione nell'ambito di quel di quel bagaglio un profilo social un email una piattaforma state commettendo un reato dice ma me la date lui la password io la posso cambiare no posso modificare un dato no posso pubblicarne uno no senza il consenso dell'altro quindi è un rapporto per questo io dico per evitare delle problematiche delle dispute successive proteggete invece la vostra password cioè chiudetela non mettete poi nomi banali la maggior parte delle password sono di una banalità enorme 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 non parliamo non parliamo poi delle password segni noi le password segni le violiamo nel giro un po' stretto di tempo quindi la condivisione delle password oh voi due che state condividendo le password tu e lui non mi ascolti sì la sto levando ora la levo non le dovete avere in condivisione ognuno si protegge la sua tanto l'amicizia non è dato dal segno di amicizia o peggio dal segno d'amore di dargli la password non è questo il segno altre domande io volevo chiedere quando entriamo all'interno di un sito web quando navighiamo prima di accedere al sito web spesso compare anzi quasi sempre la richiesta di accettazione di cookie esatto io ho più o meno un'idea generale ce l'ho però volevo un chiarimento credo sia le informazioni cioè se naviamo in un sito magari compriamo un oggetto o visualizziamo alcune informazioni queste informazioni vengono registrate in questi cookie cioè ci sono delle non so delle cioè è pericoloso se finiscono in mani spiegati non lo so volevo avere un parere da lei l'incognito non consente però di evitare allora l'informativa sui cookie che voi leggete è importante perché si rifà il gdpr al regolamento sulla tutela dei dati i cookie che cosa sono sono dei file di testo che raccolgono informazioni puoi andare non ti interrogo più che raccolgono informazioni sulla vostra navigazione quali ad esempio il vostro numero dp il browser che voi utilizzate quante volte magari ci sono dei cookie più sofisticati che possono raccogliere anche altro tipo di navigazione sull'oggetto che state guardando quanti click che gli fate queste informazioni poi possono essere utilizzate per fini commerciali di essere divulgate a terzi a voi mai è capitato di andare su un sito e poi di vedervi sparare su facebook sui social la pubblicità del viaggio che avete guardato da chi che cosa vanno arrivati dai cookie di prima e allora è chiaro bisogna avere una responsabilità sull'accettarne il meno possibile due di navigare e poi utilizzare dei browser che alla chiusura cancellano i dati di impostazione della cronologia quindi i cookie gli internet i file temporanei di internet internet temporary file sono tutti dei dati che vengono utilizzati o vengono ceduti a terzi per fini commerciali siamo un po' diciamolo su un grande fratello cioè quando voi pensate sì ma alla fine è un po' come social ora l'avete vista le nuove impostazioni che ha dato meta no sull'utilizzo dei social arriveremo a dei social in cui perché ve lo danno gratis o almeno quasi tutto gratis il vostro social voi non ci avete mai pensato a questo aspetto non è gratis assolutamente voi state vendendo una porzione del vostro dei vostri dati a un social non vendendoli state dando in cambio ricevete la possibilità di interconnettervi tra di voi di socializzare in quella maniera chiaramente ecco quindi non è gratis tanto che c'è un'inchiesta forte della magistratura statunitense federale proprio sull'utilizzo che è stato fatto in campagne elettorali quando possono anche dirigere opinioni l'interesse ad esempio dei social a eliminare tutti i profili fake io ritengo così la butto lì che ce ne siano una grossa quantità sui social in generale di profili falsi o di doppi profili però se voi li eliminate tutti si abbatte che cosa il numero degli iscritti e quello invece è un numero importante dal punto di vista commerciale prego dottoressa lei va alza la mano no anche dalla navigazione no la situazione vera è questa bisogna stare con i piedi per terra se leggono se sentono quello che noi stiamo dicendo mentre abbiamo internet aperto il problema è diverso è stato inoculato un un virus noi li chiamiamo Trojan voi che studiate il cavallo di Troia quelli che ci andavano dentro quella cosa lì è stato inoculato installato un virus di questo genere che capta delle informazioni quindi una cosa diversa nella normale navigazione con i cucchi questo non c'entra niente è impossibile e questo lo fa o le forze o qualche malintenzionato che chiaramente ha interesse a captare le sue informazioni ma non è così una cosa banale e semplice questo lo voglio chiarire non è una cosa alla portata di tutti ecco quindi sfatiamole queste cose no no sì certo notizia fake se c'è vuol dire che è stato installato qualche virus che fa questo ma è stato installato quindi lei ha scaricato qualcosa è andato su una piattaforma particolare in cui si è scaricata qualcosa Android risente di queste situazioni qua però è un'altra cosa prego professor Salomone tanti tanti la condivisione l'utilizzo di reti wifi pubbliche espone a quelli che si si chiamano attacchi men in the middle che vuol dire qualcuno qualche malintenzionato che utilizza sfrutta la rete wifi per le comunicazioni che voi state facendo quindi io il consiglio che do è quando ci sono reti wifi pubbliche non accedete a vostre informazioni personali cioè non digitate password non accedete l'onbanking per chi l'utilizza magari c'ha la carta dei suoi genitori o le mail o accedete le password sui vostri profili social evitate di utilizzare reti wifi pubbliche per gestire informazioni personali perché lì c'è molta possibilità può essere installato anche sul router wifi un software che capta anche se sono informazioni criptate del genere end to end che dicevano la vostra compagna quindi attenzione alle reti wifi pubbliche quelli degli alberghi quelle delle cose è bello e c'è la cosa andate a guardare solamente siti pubblici senza entrare in siti profili personali se non c'è altro siamo arrivati quasi alla fine la professoressa vuole fare un'altra domanda non ci sono più domande ci riteniamo tutti i spazi ah c'è un'ultima c'erano dei ragazzi che avevano comunque preparato un video che volevano sottoporre a lei alla sua attenzione all'attenzione anche di coloro che stanno seguendo l'incontro siamo pronti per il video dove siamo chi ha il video tra i molti che avrete presumo insomma preso anche pedofili eccetera è mai capitato che qualcuno fra questi non si rendesse conto del reato commesso grazie della domanda sì sì è capitato tra l'altro io ricordo una in particolare che no no mi rivolgo a te nel senso che avevamo stavamo arrestando per detenzione di pornografia minorile aveva un sacco di file una delle cose che delle obiezioni ah ma mi state arrestando vabbè ma io cosa ho fatto dicevano delle immagini non ho mai toccato un bambino cioè aveva una lui una consapevolezza scarsa della gravità di quello che aveva commesso e non si rendeva conto cioè addirittura mi arrestate quindi non capiva il disvalore così come molti e soprattutto minori la maggior parte perché chiaramente i minori c'è un po' più di ce lo posso anche comprendere non conoscono bene ancora le condotte non sanno cosa è reato anche se quando i minori fanno reato e questo lo sapete c'è una procura per i minorenni che se ne occupa non è che sono leggi bus soluto non è così ma hanno e la maggior parte dicono io cosa ho fatto tantissime volte tantissime io cosa ho fatto io cosa ho anche perché c'è questa percezione che fare qualcosa dietro uno schermo non è la stessa cosa è un po' sugli episodi di cui avete parlato di bullismo il bullismo quando è cyberbullismo è molto più grave dice vabbè ma io alla fine ho creato questo proprio face vabbè l'ho insultato vabbè ma eravamo là non è che l'ho picchiato beh picchiare è grave ma è altrettanto grave anche diffamarlo online e fare e portarlo magari nei casi che sono successi anche a togliersi una vita perché è utilizzo il verbo di prima massacrato grazie dottore Labella grazie per il suo tempo dedicato alla nostra scuola ai nostri giovani e soprattutto io chiederei anche ai rappresentanti di classe quindi al nostro strumento di organizzazione per le vostre assemblee studentesche io penso che quello che oggi è emerso è che i vostri dubbi hanno bisogno di essere di avere delle risposte perché internet è nelle nostre attività di tutti i giorni ci siamo resi conto che anche nelle attività dei vostri fratelli delle vostre sorelle minori molto spesso si acquista un cellulare per un bambino di 5 anni perché quelle skill che si acquisiscono quando si è piccoli ti accompagneranno in tutta la vita per tutta la vita per cui probabilmente c'è veramente tanto da conoscere non per demonizzare ma per imparare ad utilizzare uno strumento che ci accompagnerà per tutta la vita e noi vogliamo che ci accompagni questo strumento per tutta la vita in modo sano in modo da renderci soggetti consapevoli sereni felici delle opportunità che abbiamo e allo stesso tempo capaci di contrastare gli enormi rischi che nascondono quindi io vi chiederei di riflettere a seguito di questo incontro e di farne oggetto di confronto e sicuramente il dottore Labella e anche altri esperti potremo noi coinvolgere per diventare cittadini consapevoli anche nel nostro Suffer Day dei grazie 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 peccato peccato che non si sentivano bene i dialoghi la prossima volta magari mettete le frasi sotto perché probabilmente la ripresa non è stata efficace con l'audio bene grazie di nuovo grazie a tutti voi e ci incontreremo prossimamente grazie grazie